Oggi vi mostro un esercizio che possiamo tranquillamente eseguire in casa per combattere un po' la noia di questi giorni. Al posto del comune tappetino useremo una scena alla palestra e l'esercizio in questione è il plank, che è un esercizio total body, quindi non ci concentreremo su un unico gruppo muscolare. La posizione di partenza è la seguente, quindi facciamo perno sui gomiti e sulle caviglie e non incurviamo la schiena, così o in quest'altro modo, per cercare di evitare eventuali fastidi. Non mi resta che seguire, buon divertimento!